Musica Ci troviamo nell'area disegnata dall'architetto Cibic, nell'area outdoor, con il direttore generale di Oltremateria, Loris Casalboni, che ci spiega che cosa presenta qui a Green Home Design. Quest'anno Oltremateria presenta le sue nuove ecomalte, la collezione riciclo, ecomalta certificata con vetro riciclo, certificato dei consorsi del vetro, quindi vetri delle vecchie lampadine, delle vecchie bottiglie, dei vecchi specchi. E quest'anno presentiamo qui al Mad Expo anche due nuove collezioni, una è la serie Tattoo, l'altra è la serie 3D. Sono due nuovi concept che svilupperemo durante l'arco del 2013. Perché è importante partecipare a questo tipo di manifestazione come appunto Green Home Design? Credo sia importantissimo partecipare a questo tipo di eventi proprio per comunicare al progettista e al designer, cioè al fruitore, al propositore dei progetti, tutta una serie di nuovi materiali ecosostenibili e certificati, perché per noi è meramente molto importante far parte di questo mondo. Grazie a tutti.